Benvenuti in JB Cars, sono Davide Ferrari. JB Cars Monza è sempre stata appassionata nel ricondizionamento e nella commercializzazione delle vetture certificate per il marchio Approved, un marchio che vi dà tutta la sicurezza dell'acquisto come una vettura nuova delle vostre auto usate Jaguar e Land Rover con un massimo di 5 anni di anzianità e 150.000 km, con una serie di vantaggi che vi fanno stare veramente tranquilli nell'acquisto della vostra vettura usata o aziendale, 24 mesi di garanzia validi su tutto il territorio, su tutti i dealer del mondo Jaguar Land Rover, la vettura sostitutiva in caso di fermo, 165 controlli che vanno dalle gomme alla carrozzeria ai tagliandi tutti effettuati presso la rete ufficiale Jaguar Land Rover, il chilometraggio certificato esposto in fattura in una certificazione di qualità data dalla Jaguar Land Rover Italia SPA che vi fanno veramente stare tranquilli nell'acquisto del vostro usato Jaguar Land Rover andiamo a scoprire insieme qualche vettura non possiamo dimenticare il nostro best seller, il nostro cavallo di battaglia Range Rover Evoque dell'anno 2017 con 65.000 km bianco ghiaccio, quindi bianco metallizzato tetto nero, finiture nere, cerchi da 20 pollici gomme M più S, 4 stagioni come tutta la gamma Land Rover che vi consentono di non dover fare il doppio treno di gomme andare in tutta sicurezza d'inverno grazie anche al Terrain Response e al programma pioggia-ghiaccio-neve vettura che presentiamo a 31.700 euro già con lo schermo grande a 10 pollici capacitivo touchscreen la trovate sul sito jbcars.it e avanti ancora con un altro Discovery Sport questa volta con un cambio manuale trazione anteriore quindi una vettura da tutti i giorni una vettura con anche dei consumi bassissimi bianco pastello con il tetto in contrasto nero cerchi da 17 pollici però colgo l'occasione di ricordarvi che presso il concessionario JB Cars in via zone Visconti 15 potrete personalizzare la vostra Discovery Sport o la vostra Jaguar Land Rover per esempio su questa vettura la possiamo aggiornare con dei cerchi da 19, da 20 pollici e persino con un interno in pelle a campione per farvi decidere il colore della pelle e il tipo di cucitura è personalizzare e rendere unica la vostra Jaguar o Land Rover penso che questa vettura magari tra qualche settimana la vedrete sul sito con qualche personalizzazione che solo da JB Cars potrete trovare questa la trovate sul sito è di gennaio 2020 a soli 9.000 km una vettura aziendale IVA esposta leasingabile la presentiamo a 32.000 euro e avanti con un altro Discovery Sport questa volta con il cambio manuale per chi preferisce la guida con cambio manuale sempre 4x4 nell'allestimento SE quindi misto pelle e tessuto comandi al volante vettura 4x4 nera, interni neri muso nero, scritte nere total black molto molto cattiva dell'anno 2018 94.000 km la presentiamo a 27.500 euro noi siamo nati 20 anni fa come concessionaria ufficiale solo Jaguar e nel cuore rimane una grande storia di berline XE è la nostra berlina piccola berlina diciamo per modo di dire però è la nostra sportiva 5 porte 5 posti totalmente in alluminio quindi molto divertente molto leggera una rigidità torsionale da vettura veramente sportiva 2.000 diesel dei consumi molto bassi perché è una vettura che raggiunge tranquillamente i 20 km con un litro abbiamo questa vettura immatricolata ottobre 2020 con soli 391 km come dire un chilometro zero che non si può dire una vettura aziendale notevole risparmio da listino nera interno nero con tutto di serie già con l'ultimo restyling della XE quindi con i fari più filanti più felini dell'ultimo restyling 391 km la presentiamo da un listino di 55.000 euro a 37.500 euro l'XE vi aspetta per essere provata tutti i giorni tranne la domenica anche il sabato fino alle 18 vi ricordiamo che stiamo lavorando meglio per fare un servizio migliore sempre su appuntamento quindi vi consigliamo di chiamare o prendere contatti sui nostri social o sul nostro sito per prendere l'appuntamento per avere un commerciale dedicato a voi che vi saprà spiegare e far apprezzare tutte le peculiarità del mondo Jaguar Land Rover e chiudiamo come una buona cena con un bel dolce la nostra F-Type la nostra sportiva di casa Jaguar un corpo totalmente in alluminio adesso la costruiscono anche nella motorizzazione 2000 turbo da 300 cavalli quindi un motore contenuto con dei consumi contenuti e anche una sovrattassa piccola però tanto divertente un 2000 turbo da 200 cavalli in uno splendido colore blu elettrico col black pack quindi cerchi neri muso nero tutte le finiture nere il tetto in vetro 2000 turbo da 300 cavalli cambio automatico sequenziale al volante completa di tutto nell'allestimento R-Dynamic cerchi da 20 pollici e trazione posteriore questa è una vettura aziendale introvabile solo da GB Cars la potrete trovare in questo colore in questo allestimento soli 6 mesi di vita 8.000 km un'auto che presentiamo da un listino di 85.000 euro a 69.000 euro IVA comprese solo 8.900 km il massimo della sportività di casa Jaguar in un colore molto 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 sportivo vi ricordo che GB Cars si trova in via a zone Bisconti 15 nel centro nel cuore di Monza abbiamo un grosso parcheggio qui a pochi metri dalla nostra sede vi aspettiamo tutti i giorni anche il sabato fino alle 18 vi invito a prendere appuntamento con i nostri commerciali sul sito o telefonando allo 039 38 94 96 e vi aspettiamo per provare la nostra vettura e scoprire tutti i programmi finanziari personalizzati e anche di noleggio per farvi entrare nel mondo Jaguar Land Rover vi ricordo che trovate notizie sul sito jbcars.it sui nostri social Instagram Facebook e Youtube vi aspettiamo un saluto da JB Cars per aver guardato